Ho rinnovato perché mi diverto ancora, mi piace guidare la motocicletta, mi piace anche tutto il resto, mi piace questo stile di vita, anche se a volte è un po' impegnativo, ma mi piace, è normale per me perché è da molto tempo che lo vivo, mi piace anche lavorare molto su me stesso, allenarmi ed essere al massimo. Quindi specialmente per questo motivo e anche per me è stato importante capire quali erano le sensazioni della Yamaha, se c'era un accordo, se c'era il loro sostegno, sicuramente l'atmosfera nel team è positiva e questo è molto importante.